ciao e bentornati sul canale benvenuti al car of the day una macchinina al giorno un video al giorno con una macchinina al giorno per i prossimi 10 20 50 anni abbiamo talmente tante da aprire che figurati possiamo andare avanti quanto vogliamo ma se non ancora fatto mi raccomando allora oggi abbiamo una macchinina riuscita quest'anno se non sbaglio adesso la vediamo un po più che una di la verità ne abbiamo tre perché abbiamo tre versioni differenti di questa macchina qua allora questa esattamente è uscita l'anno scorso è la mad mark drift attack nascita l'anno scorso nella serie hot wheels 8x 209 di 250 vedete 2023 infatti 2023 uscita in 2023 come potete vedere la differenza è questo triangolino qua questo triangolino come possiamo farla vedere vedete questo triangolino qua nel 2023 era azzurrino nel 2024 e questo bianco qua vedete ecco qua triangolino questo non è proprio un triangolino questa figura qua dove c'è il numero riportato il numero della macchinina quindi in bianco e in azzurro l'anno scorso quindi prima uscita è stata questa qua qua ne approfittato e tra ne abbiamo tre apriamole tutte e tre non utile fare tre video con lo stesso modello ecco la prima uscita questa qua in questo bianco con questa grafica questa è la madro par mi sembra la mopar vediamo un po ecco qua meglio il 2022 modello è presentato nel 2023 come novità e quindi la prima uscita questo bianco con questa con questa colorazione poi uscita in grigio nel 2024 quest'anno vedete che bello toyota che bella che bella che è veramente bella per uscita appunto in grigio questa 59 di 250 e apriamo anche questa sì è una macchina un po particolare di perlino volevo neanche prendere perché è una mezza diciamo una fantasy però poi effettivamente ci sta ci sta driftata che vedete in queste due colorazioni e poi adesso è uscita di nuovo questo qua appena uscita quindi è un case j mi sembra del 2024 se non l'avete visto andate a vedere il video si vede la colla mamma mia stava volando giù ecco guardate che bella sta qua con questo blu opaco bellissima con la grafica praticamente colore su colore vuol dire che praticamente riprende lo stesso colore dello sfondo ma più chiaro più scuro o lucido opaco questo è opaco colore lucido un po più scuro è così si vede non si vede la sponsorizzazione guardate che bella toyota bellissima riesci a vedere da tempo che metto una luce in più ecco qua così si vede meglio guardate che bella che guardate che meraviglia che è questa colorazione qua vedete è scritta in lucido e la macchinina in opaco guardate anche diciamo sulla fiancata che si vede non si vede non è aggressiva come grafica perché si chiama colore su colore guardate che bella e quindi questa è uscita anche questa è opaca che con questa grafica stesso stile stesso stile invece quella bianca lucida è uscita già con la grafica colorata vedete questa con la grafica colorata vedete un po più aggressiva visibile poi le grafiche sono tutte uguali soltanto che vengono riprese in modo diverso in modo diverso quindi queste sono le tre versioni mi sembra che siano solo queste adesso devo vedere magari ci sono delle altre perché come sapete ne ho comprate talmente tante ultimamente non so più dove metterle non so non neanche più catalogate forse no delle altre di queste non mi ricordo quali sono uscite se ne sono uscite delle altre nel caso le riprenderemo nei prossimi giorni tanto qua di video ne abbiamo tantissimi da fare eccola qua quindi questa è l'appunto si chiama non l'appunto eh si chiama si chiama come si chiama questa qua allora mad 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 mike drift attack eccola qua la serie modify di quest'anno e l'anno scorso invece è uscita con oisotics vedete che bella che è questa ho letto da muopar ma invece non lo è è della rathom vabbè guardate vediamo se non ci vedo più non ci vedo più dobbiamo zoomare eccola qua vedete qua sono tutti toyota e sono tutti gli sponsor qua vedete ecco lì lì tutti gli sponsor ecco e niente noi siamo nel vuoto ecco lì vedete tutte le macchinine eccole qua quindi questa un altro modello del car of the day un altro modello di macchine che stiamo aprendo eh perché ne ho talmente tante eccole qua bellissima invece l'avete questa c'avete queste colorazioni ne avete delle altre fatemi sapere perché sono curioso sapete io rispondo sempre ai commenti niente dai per oggi è tutto questi sono video molto corti perché dobbiamo essere snelli e veloci perché ormai qua i video vanno 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 mangiati vanno visti in pochi secondi vedo che che i ragazzi scrollano sul telefono scrollano vuol dire che vanno su e giù nei video pochi secondi ta 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 saltano da un video all'altro pazzesco ho visto da tutte le parti in cina anche se in cina non c'è youtube però con le nuove vpn prendono anche youtube tiktok tutti questi social qua tutto tutto un velocissimi se veloci snelli veloci veloci come questa macchina qua sicuramente è velocissima che cammina molto bene niente dai questo video di oggi con il modello di oggi ci vediamo domani con una macchinina mi raccomando sono ancora fatto lì lì iscriviti al canale suona campanellina lasciaci un commento qua sotto seguici sui social e guardate quel video di stifa piacere ci vediamo domani con un nuovo modello ciao